C'è un'emergenza che va affrontata subito, quella relativa alla situazione delle famiglie che sono ancora ospitate nelle strutture recettive. La scadenza prevista dall'ordinanza per l'uscita ovviamente è stata condizionata poi dall'emergenza Covid e abbiamo una situazione di incertezza che sta mettendo fortemente in difficoltà le famiglie ma anche le strutture. Proprio per questo ieri ho chiesto e ottenuto, si è svolto nel pomeriggio un incontro con il capo della protezione civile nazionale Angelo Borrelli e il responsabile di protezione civile regionale Silvio Liberatore che ringrazio, un incontro che ha consentito di individuare una linea comune. Ci aspettiamo quindi a questo punto dalla protezione civile l'indicazione di una data che ragionevolmente per l'uscita delle famiglie dalle strutture non potrà che essere quella del 31 luglio, ovviamente data massima. Quindi questo ci consente intanto di dare una risposta alle famiglie, alle strutture, sulla copertura di questo periodo ma ovviamente non potrà che essere un termine ultimo. Quindi dobbiamo assolutamente non abbassare la guardia e utilizzare questo mese per facilitare il percorso di uscita delle famiglie dalle strutture verso un'abitazione con il passaggio al CAS. Proprio per questo abbiamo chiesto al capo della protezione civile e al dottor Liberatore la disponibilità laddove fosse necessario di anticipare due mensilità di CAS alle famiglie che ne avessero bisogno e che può appunto agevolare il pagamento delle prime spese per il passaggio nella nuova abitazione. Abbiamo avuto una disponibilità e per questo ringraziamo. Ovviamente dobbiamo partire subito così come stiamo definendo insieme all'Ater la sette lunedì incontreremo la dottoressa Ceci per quello che manca, che deve essere ancora definito per consentire al Comune di poter procedere al secondo bando, appunto per far partire subito il secondo bando di assegnazione delle case acquistate dalla Regione e nella disponibilità di Ater, come sapete si parla di circa 35 abitazioni perché ovviamente le famiglie che sono e saranno assegnatari di questi alloggi ovviamente potranno restare nelle strutture fino all'assegnazione stessa per evitare il duplice trasloco. Stiamo andando avanti, accelerando tutte le procedure in un momento di grande difficoltà per cercare di agevolare le famiglie, non solo del Comune di Teramo ma di tutto il territorio del cratere su una misura che è una misura, non dimentichiamolo, di protezione civile perché il vero obiettivo è e non può che essere la ricostruzione.